Il che è un notevole passo avanti, perché questo riporterebbe interamente il controllo di molte zone del paese, interamente sotto la bandiera siriana. Questo metterebbe in grave difficoltà a questo punto le forze di occupazione, di invasione americane che occupano alcune zone della Siria, in particolar modo la parte est, oltre il fiume Leofrate. Anche i turchi, l'offensiva turca che era in programma per la Siria in questi mesi è andata completamente in stallo, è rimasta lì bloccata. Esatto, perché sono arrivati dei rinforzi siriani, sono arrivati dei rinforzi russi e poi va avanti questa trattativa. Il problema della Turchia è assicurare che non vi siano attacchi e appoggi da parte dello IEPG verso il PKK. Il controllo pieno di tutti questi territori da parte siriana garantirebbe la Turchia per quanto riguarda la sua sicurezza e tra l'altro manterrebbe aperti i rapporti, i canali diplomatici con Damasco. Anche perché, come ha ribadito più volte sia Damasco che la Russia, la soluzione a questo problema, cioè dei territori occupati dai turchi, non può essere in assoluto una soluzione militare, ma deve essere una soluzione diplomatica. Questo perché sono paesi vicini, una guerra tra di loro creerebbe dei problemi che si ripercuoterebbero negli anni, degradando i loro rapporti in maniera totale. Tutta la questione economica di entrambe le nazioni è un deperimento generale inutile. Tu pensa solo al fatto che la Turchia, essendo molto vicina alla Siria, avrebbe tutto l'interesse a vedersi come parte chiamata in causa per la ricostruzione del paese, quindi con opere di infrastrutture che potrebbe contribuire a costruire. e poi il commercio, via dicendo, perché non si parla solo della Siria, si parla della via della Seta, si parla della mezzaluna sciite, quindi di un ampio teatro geopolitico nel quale la Turchia può essere parte in campo, perché ricordiamoci che dal golfo attraverso la terra possono arrivare le forniture verso la Turchia e dalla Turchia attraverso le ferrovie che stanno realizzando passare fino in Cina e arrivare nell'Indo-Pacifico, poi attraverso l'Iraq o l'Iran. Stefano, la Turchia che è in stallo con la Siria militarmente, quindi l'avanzata non la manda avanti, ha però fatto delle azioni particolari in Iraq che hanno provocato rabbia e sdegno da parte della popolazione. Sì, perché sono stati colpiti obiettivi nel nord del paese, questa non è la prima volta che lo vediamo, noi abbiamo visto delle operazioni militari pesantissime condotte dalla Turchia in Iraq. Non è purtroppo una situazione che sia facile da risolvere. In questo caso i Bayraktar hanno colpito diverse basi nel nord dove c'è il Kurdistan iracheno. Ma di nuovo non si tratta di rivendicazioni territoriali, si tratta di bersagli e di opportunità? Sono bersagli sempre legati alle milizie kurde queste. Io purtroppo ho visto qualche video nelle settimane scorse, uno di questi obiettivi di opportunità che è stato colpito erano dei civili, sembravano effettivamente donne e bambini ed erano chiamati turisti dai locali. È chiaro che noi non sappiamo cosa ci fosse eventualmente lì vicino, possono essere anche vittime casuali di qualcosa che è stato colpito nel settore. Magari sono stati mal identificati dall'operatore del drone e quelle sono… Guarda, hanno colpito sia Mosul, tra Mosul e il nord del paese, quindi gli attacchi sono stati su un vasto territorio. Ecco appunto, siamo andati piuttosto in Iraq, è già territorio nazionale, non siamo più in zone… Anche in Iraq, certamente, anche in Iraq. Tra l'altro sono stati usati anche, se non sbaglio, poi dei… no, qui hanno usato i Bayraktar principalmente per colpire le località nel nord e soprattutto del paese. Comunque sì, la cosa più importante da dire sull'Iraq sono i disordini che ci sono nuovamente nella capitale, fomentati pare di nuovo dai seguaci di Al-Sadr. Il personaggio di Al-Sadr ritorna periodicamente perché è una guida religiosa su un sciita, lui, Muqtada stiamo parlando chiaramente, lui sta prendendo delle posizioni anche contro i governi perché denuncia una presenza iraniana, lui scomoda. È scomoda la presenza, l'influenza che gli Ayatollah iraniani hanno sul suo paese, sull'Iraq, in quanto non è che non convenga all'Iraq, non conviene a lui. A lui a perdere potere, essenzialmente. Esatto, perché il problema è nella gestione dei fedeli sciiti, ecco che se si rivolgono e guardano magari alla guida spirituale iraniana, non guardano a quella irachena da lui rappresentata. Quindi il buon Muqtada al-Sadr si lamenta di questo e fa forte le pressioni sul paese, sul governo, perché vuole mantenere un forte ruolo di influenza nella politica e nelle scelte del paese. Tornando un attimo alla Siria… Tu mi dicevi che dietro a questo personaggio comunque sia potevano esserci anche delle influenze occidentali, no? Sì, perché nel momento stesso in cui al-Sadr rappresenta una sponda per gli Stati Uniti e per i servizi statunitensi per creare disordini in un paese nel quale stanno perdendo il controllo e la loro influenza, ecco che anche se si tratta di Muqtada al-Sadr, un leader sciita col quale hanno combattuto in passato, ora può tornare conveniente averlo dalla propria parte per causare problemi in Iraq. Offrirgli il potere in cambio di disordini. Offrirgli anche soldi in cambio di disordini. Tornando al discorso invece di prima del summit di Tehran in formato Astana, perché abbiamo citato i droni mi è venuto in mente, una delle cose di cui si è parlato riguarda le forniture di armi tra Iran e la Russia. Gli Stati Uniti sapete che hanno denunciato che l'Iran potrebbe fornire i droni alla Russia. Quali droni? Si è parlato in particolar modo di due modelli, i più avanzati che ha al momento l'Iran, che sarebbero lo Shaheb 129, un mezzo con mi sembra 13 metri di apertura all'area, un motore Rotax a quattro cilindri contrapposti, quota massima di 7500 metri, una velocità di 150-200 km orari, e che potrebbe, diciamo che è una copia sia lui che l'altro degli MQ-1, MQ-9 americani. Questo perché ne erano entrati in possesso gli iracheni, gli iraniani, scusatemi, facendolo cadere quando era in volo, sembra toccandolo con l'ale facendogli perdere il controllo. Sembra incredibile ma si fa anche questo. e un altro invece sembra che fossero riusciti con degli strumenti di guerra elettronica a isolarlo dalla ricezione dei dati del suo controllore. L'avevano fatto planare a terra. Il che per loro è stato importantissimo perché hanno ottenuto integro un drone d'attacco statunitense, che poi attraverso un lavoro di reverse engineering hanno portato tutto all'interno dei loro droni. L'industria dei droni iraniana, prima che qualcuno si metta a fare dell'ironia a buon mercato, è un'industria di primo ordine. L'Iran ha sviluppato, ha intuito innanzitutto, tra i primi paesi, il potenziale di questi droni. Voglio dire, se li vedeva magari volare in alcune zone del suo territorio sopra la testa e quindi hanno capito che quelli erano utili e quindi hanno iniziato a sviluppare una loro industria. Ci sono molte aziende iraniane che hanno investito in ricerca su questo settore e ne producono da molti anni. I primi erano molto spartani e poi via via sono diventati sempre più complessi. Oltre allo Shaeb ce ne sono altri modelli molto moderni. Il divario lo possiamo vedere con l'industria aeronautica, per esempio, che continua a produrre degli F5, delle copie degli F5 statunitensi che non sono comunque sia degli aerei che sono all'altezza con quelli né occidentali, né asiatici, né russi. Però se uno va nel comparto industriale dei droni, come stai dicendo, si trovano delle sorprese incredibili e delle sorprese che, per esempio, nella guerra in Yemen hanno fatto la differenza. Ma guarda, sono riusciti a tenere in piena efficienza anche degli F-14 Tomcat, gli iraniani. E anche se ne ben mi ricordo degli F4. Diciamo che hanno sviluppato anche una loro produzione interna per l'elettronica e gli aggiornamenti di questi aerei, anche per quanto riguarda i radar. E questo va a tutto il loro merito, nel senso che sono sottoposti a feroci sanzioni dagli anni 80, per cui, voglio dire, fare tutto questo in un regime di sanzioni ci mette dei seri dubbi sulla capacità che abbiano le sanzioni di causare poi tutti questi danni ai paesi che le subiscono. Alla Nord Corea, no? Il programma nucleare di China. Un po' come alla Russia oggi, che secondo i nostri analisti doveva crollare economicamente, invece non solo non crolla, ma sembra che addirittura la sua situazione economica sia migliore rispetto a quella di inizio conflitto, perché sta guadagnando molto di più. Siamo noi che stiamo perdendoci, in questo caso. Noi stiamo perdendo pesantemente, perché la Germania sembra stia andando in recessione. Gli Stati Uniti entrano nel secondo quadrimestre con un calo del pile, quindi sarebbero in recessione tecnica. Sebbene sembra che la portavoce della Casa Bianca non conosca la definizione. No, l'hanno cambiata, Stefano, l'hanno cambiata. In realtà, da quanto ho visto, purtroppo sono riusciti a ridefinire la definizione di recessione, quella vecchia, quella che ci ricordiamo tutti, non vale più. E quindi loro ti tentano di spiegarti come sono buoni, bravi e capaci, quando in realtà stanno mettendo la polvere sotto il tappeto. Quando il pil cala, quando il pil cala non è più recessione. Assolutamente. Perché è il loro pil che cala, va bene. comunque sia, l'inflazione è alta, la banca centrale americana ha innalzato di 75 punti il costo del denaro, quindi continua con queste manovre che tra l'altro non sembrano risolutive sull'inflazione, perché non è un'inflazione da eccesso di domanda, ma è un'inflazione dovuta all'innalzamento del costo delle materie prime, dell'energia e quindi comprime la domanda e comprime l'offerta con un innalzamento di prezzi. Quindi alzare il tasso di interessi non sta e non fornerà i risultati sperati proprio perché la causa di questa inflazione non è la solita che si identificava in precedenza, ma è nuova. Noi non abbiamo mai vissuto questo tipo di situazione in passato con un'economia stagnante e i prezzi che comunque salgono. Al momento quindi che cosa si è discusso? Si è discusso probabilmente tra Russia e Iran dello scambio di forniture. se è da verificare i russi avranno a disposizione un numero significativo di questi droni che ripeto sono al momento e sulla carta migliori di quelli che hanno al momento i russi. Gli famosi Orion fino adesso non si sono visti molto al fronte perché è una tecnologia relativamente nuova per loro. Lo stabilimento era iniziato se non sbaglio la produzione nel 2021 giusto? Credo di sì. Dalle notizie che abbiamo dato anche noi credo che ci troviamo. In una fabbrica nuova dove partiva la produzione nel 2021 e pertanto in una fabbrica che nasce nuova per produrre questo tipo di prodotti chiaramente hanno problemi degli aggiustamenti da fare tutto un lavoro che gli iraniani hanno già fatto negli anni passati. È possibile quindi che ci sia stata questa fornitura probabilmente di un numero di prova di questi droni per vedere se effettivamente possano risolvere alcuni problemi o dare un di più alle possibilità russe di eliminare ad esempio le famose batterie di artiglieria di iMars e anche gli M142 e gli M270 il tipo quelli doppi che ha fornito la Gran Bretagna e poi i cannoni tipo i Cesar e via dicendo che li abbattono li distruggono cioè li abbattono li distruggono ma non nel ratero che ci attendiamo Questi droni che stiamo vedendo adesso negli Shared Stefano hanno delle particolarità solo verso capacità solo verso gli attacchi al suolo o sono anche antiaerei non hanno radar a bordo capaci di hanno anche un radar quindi hanno anche la capacità di reagire a differenza a differenza dei Baraktar hanno anche il radar però serve per identificare i bersagli a terra il drone nella nella diciamo non è stato pensato come combattimento aria aria ma adesso ci stiamo trovando in una configurazione in cui questi droni si troveranno a volare insieme Bayraktar e Shared probabilmente nella stessa zona sì però finora non hanno mai pensato a questo tipo di ruolo e pertanto non è il radar che hanno a bordo non è un radar per l'attacco di altri veicoli velivoli aerei ma per l'attacco di velivoli identificazione e attacco di velivoli a terra oltretutto se noti il 149 e anche il 129 hanno un ottimo comparto optoelettronico con tanto di designatore laser che serve a a permettere loro di sorvegliare quindi il ruolo che svolgono questi droni perché ricordiamo il 129 che ha il motore Rotax vola oltre 7 km di quota il 149 invece ha un motore turboelica con 4 pale e quindi ha una spinta notevole 400 km orari di velocità e una quota di volo anche superiore agli 11.000 metri questo lo mette tra l'altro al sicuro dal rilevamento radar perché ricordiamolo sono fatti materiali compositi e hanno una bassissima traccia radar che lasciano e pertanto i sistemi ucraini difficilmente li riescono a riconoscere comunque questo lo vedremo entro breve ed hanno questo tipo di vantaggio poi con il comparto ottico che è di ottima qualità quanto ci è dato meno avevamo letto notizie in tal senso da pubblicazioni iraniane permette loro di una qualità di immagine con anche camera termica eccezionale per poter acquisire informazioni e bersagli quindi identificare le batterie identificare i magazzini e fare tutto un lavoro di sorveglianza a quota elevatissima finora i russi l'hanno fatto per lo più con gli Orlan 10 che sono dei mezzi ottimi nella loro categoria ma sono anche piuttosto spartani ecco non hanno la qualità di immagine e la capacità di acquisizione che hanno invece questi sistemi qua ti parlavo Stefano di aria aria perché in questa equazione manca bene o male ancora il Sukhoi S70 lo Hotnik quello non sarà in grado di fare combattimento aereo anche? quello sarà in grado di lanciare i missili ma non autonomamente lo fa in coppia con l'SU57 il compito di un drone con queste caratteristiche che è lo Hotnik principalmente riguardano l'acquisizione dei bersagli aerei perché vola davanti all'SU57 ha una traccia frontale ancora più bassa rispetto alla sua ha a bordo anche un radar e dei sistemi di rilevamento a infrarossi passivi che permettono di estendere la capacità di rilevamento dell'SU57 oltre la propria capacità oltre i propri limiti inoltre può offrirsi come bersaglio sacrificabile in caso venga identificato e fatto oggetto di attacco l'SU57 l'aeronemico attacca il drone mentre il compagno del drone abbatte o abbatte il lanciatore nemico ecco lo scopo è quello e poi fornisce fornisce anche attraverso la sua culla diciamo interna il suo vano interno una riserva di armi per colpire obiettivi che quindi supera la capacità di carico del singolo del singolo aereo per quanto poi i russi hanno effettivamente compiuto anche attraverso gli Orlan l'abbattimento di droni in volo questo sì questo l'hanno fatto non mi risulta che gli iraniani abbiano fatto altrettanto però al momento non credo che sia la priorità visto che le difese aeree russe funzionano abbattono con grande efficienza i Bayraktar una cosa che ho letto su una rivista tra l'altro italiana riguarda l'eventuale fornitura invece di Bayraktar turchi alla Russia e voi direte come ma i turchi li forniscono agli ucraini in realtà se ne è vantato Erdogan all'incontro di Astana l'abbiamo letto sui giornali esattamente e voleva ovviamente venderli anche lui così come tutti gli altri fare del business e Putin aveva detto beh sì noi fondamentalmente siamo interessati al vostro prodotto perché non metterci d'accordo tra di noi perché cosa non è tanto il fatto che abbiano bisogno dei Bayraktar in sé perché rispetto sulla carta rispetto a quelli iraniani sono inferiori perché ripeto non hanno il radar e anche a livello di gruppo di acquisizione ottico sulla carta sembrano migliori quelli iraniani e il costo e il costo sarebbero addirittura più economici quelli iraniani a quanto ho capito per cui voglio dire hanno dei vantaggi il vantaggio di prendere invece i Bayraktar consiste nel fatto che ne priveresti il tuo avversario certo e cioè lui dice io ti acquisisco tutti i Bayraktar che produci basta che tu non li vendi più agli ucraini perché intanto quelli come si alzano in volo te li fanno abbattere non ti fanno una grande pubblicità mentre invece se non li vendi più a loro e li vendi a me è la Russia che te li compara quindi voglio dire rispetto all'Ucraina è un notevole fiore all'occhiello che ti metti sul bavero della giacca voglio dire sono curioso in questa gara a chi tenta di vendere più droni insomma chi fa tutti i pezzi di questi droni vengono mica tutti dalla Cina una grande parte della componentistica è sviluppata all'interno dell'Iran il resto è reperito sul mercato attraverso le più svariate fonti ma immagino le sanzioni impediscano una gran parte dei nostri componenti aggiungere sui loro lidi pochi sanno che tutti i microchip contenuti nelle schede dei computer possono essere utilizzati per altre funzioni e quando vengono demoliti e inviati magari a decine di migliaia queste schede di computer dismessi vecchi eccetera vengono poi recuperati in paesi più improbabili no? che li prendono li recuperano e disassemblano tutta la componentistica la disassemblano e li accumulano li dividono per tipi e li vendono un total quintale e poi questi componenti ritornano sul mercato e sfuggono completamente ai controlli delle sanzioni e delle forniture di chip nuovi e fanno benissimo il loro lavoro tra le altre cose pertanto su alcuni missili prodotti dalla Russia che erano stati prodotti magari anche una decina di anni fa hanno trovato componentistica che risaliva alle produzioni degli anni 90 però se a loro non interessa avere l'ultimo chip l'ultimo ritrovato per fare una funzione a cui quel microprocessore un semiconduttore va benissimo per farlo allora va bene se la precisione il guadagno di precisione sull'obiettivo è un metro magari non serve a niente ma no ma neanche quello magari per servire a delle funzioni di controllo di verifica può servire un microprocessore che era stato fatto una componente che era stata fatta negli anni 90 loro la usano voglio dire non è che non ci fossero dei circuiti miniaturizzati allora l'importante è che funzioni il pezzo e se poi alla fine lo riescono a fare lo riescono a assemblare con poca spesa e tanta resa voglio dire è tutto di guadagnato certo è tutta roba di recupero che loro possono prendere che già costa niente questo tipo di componentistica costa niente comprarla normalmente figurati quella di recupero smantellata magari in Bangladesh o in altri paesi è anche chiaro però che ci sono alcuni sistemi come quelli di trasmissione che ti permettono di andare a chilometri chilometri lì hai bisogno di materiali professionali e niente che puoi assemblare immagino con componenti recuperati a questo proposito nei giorni scorsi le beh ma le forniture dei pezzi nuovi che ti occorrono le trovi con le triangolazioni basta che ad esempio la Turchia compri una partita di pezzi dalla Cina e poi li vende alla Russia non c'è neanche una sanzione in atto tra la Turchia e la Russia quindi voglio dire e altri paesi l'India l'India non può fornire forse tutti i microchip che servono alla Russia certo che lo fa e l'Iran può acquistarvi dall'India l'Iran anche li può acquistare dall'India l'importante è che non sia sotto sanzione tra l'altro l'Iran fornisce di petrolio sia la Cina anche l'India quindi voglio dire quindi fondamentalmente gran parte appunto dei bisogni vengono coperti dai loro partner ma certamente ma certamente Taiwan è il più grande produttore di microprocessori al mondo ma questo non significa che sia l'unico certo e quindi loro ottengono gli stessi risultati con componentistica di recupero rispetto certo non saranno eccelsi fantastici come quelli che ottengono alcune nostre aziende però riescono a risolvere i problemi e fanno il loro lavoro e ottengono i risultati che si erano prefissati in questo caso quindi noi abbiamo questi droni e la Turchia se tratta anche con la Russia per fornire a loro i Bayraktar voglio dire correrebbe il rischio eventualmente di controsanzioni da parte degli Stati Uniti però gli Stati Uniti a un certo punto non possono fare così tanta pressione sulla Turchia perché c'è sempre la spada di Damocle dell'estensione della Nato voglio dire che già adesso siccome non hanno fornito i 73 le 73 richieste di estradizione che aveva avanzato la Turchia ti ricordi la Turchia inizia a dire ma voi state ciurlando nel manico noi vi abbiamo chiesto determinate cose per ottenere il nostro benestare voi vi siete impegnati su quei punti però adesso no non state dando un seguito a quelle buone intenzioni che avevate manifestato e pertanto non stanno consegnando le persone richieste di estradizione è come se la Nato dovesse a un certo punto decidersi vogliamo un settore meridionale vogliamo mantenerlo oppure perdendolo indebolendo quello settentrionale quindi non puoi far entrare la Finlandia e la Svezia sai la scena è una bilancia in questo momento equiparata così Svezia e Finlandia non compenserebbero la posizione strategica della Turchia perché con una Turchia che dovesse uscire dalla Nato ed entrare in un'alleanza con Euroasiatica con Cina Iran Russia diventa un qualche cosa di estremamente pesante per gli Stati Uniti e l'Europa anche immagino l'Europa ha sempre trattato la Turchia pesci in faccia voglio dire sono 60 anni che gli fa fare anticamera c'è anche il rischio che ci rendano pamper focaccia come si può dire e beh visto come ci siamo comportati come si è comportata l'Unione Europea con la Turchia se lo meriterebbero anche però c'è anche da dire che tanta industria si è spostata da noi alla Turchia voglio dire ci sono molte fabbriche di mezzi tipo pullman autobus che vengono prodotti la interamente poi trasferiti qua non c'è più un'industria di questo tipo in Italia che fa questo tipo di lavoro il discorso della modernità del capitalismo che sposta la produzione laddove conviene costa di meno la mano d'opera e aumentano quindi i profitti però poi se le situazioni cambiano a livello geopolitico ecco che non sa come porvi rimedio e quella è la situazione a cui stiamo assistendo oggi noi che continuiamo a porre sanzioni tra l'altro il settimo pacchetto è stato molto blando nelle sanzioni contro la Russia questo può significare una cosa che di fatto l'Unione Europea ha esaurito tutti gli strumenti che aveva per fare pressione sulla Russia e adesso tra l'altro la Germania sembra che si stia dichiarando pronta in caso serva a riaprire il Nord Stream 2 che sarebbe veramente un l'ha detto Klaus Herast tra l'altro sarebbe veramente un qualche cosa di ridicolo hanno di fatto messo le sanzioni alla Russia e tutto questo bailame è scoppiato perché c'era l'apertura del Nord Stream 2 che bypassava di fatto i fornitori soliti Polonia e Ucraina cioè gli alleati di ferro degli Stati Uniti in Europa e poi adesso la Germania perché alla fine delle fini stanno subodorando che la la popolazione sembra che mal sopporti di farsi la doccia fredda al mattino la doccia fredda di non lavarsi scusatemi di non lavarsi il culo come era uscito fuori la cosa lì di non tirare lo sciacquone dell'acqua di prendersi le coperte non per il letto ma da tenersi in casa però Stefano fino a ieri ce l'hanno detto fatelo contro Putin mettete in ordine questi discorsi che fanno i politici alla popolazione gli interessa vanno a lavorare e vogliono tornare a casa e starsene al caldo guardarsi la televisione bersi una birra in pace con gli amici già la birra sembra che aumenti del 30% il suo costo perché viene a costare di più la produzione a causa degli aumenti sul gas e a un certo punto i politici iniziano a capire che i tedeschi i tedeschi come da noi gli italiani ma perché credi che da noi ci facciano votare prima ci fanno votare prima perché vogliono portarci al voto prima che arrivi l'inverno e ci facciano pagare tutte le loro decisioni di merda che hanno preso in questi mesi e anni sarà troppo tardi dopo e poi avremo già votato e quindi molti si sveglieranno e diranno eh ma se lo sapevo prima col cavolo che gli devo il voto bravo coglione e sono mesi che Sascha e Stefano te lo dicono porca miseria anche tu non ti sei iscritto ai loro canali e adesso ne paghi le conseguenze ecco grazie Stefano no comunque è vero cioè noi da quanto tempo è che diciamo che a un certo punto si pagherà noi abbiamo iniziato a dire mesi fa cos'era no sì a giugno che ci avrebbero fatto votare prima perché di fronte a questo inverno a quella macelleria che ci aspetta soprattutto per l'agenda Draghi la famosa agenda Draghi su ma chi è che poi vuole andare a chiedere il voto dopo che fanno quello che fanno il PNRR il piano nazionale di rinascita e questa resilienza che te la infilano un po' da tutte le parti principalmente da dietro sembra olio di ricino esatto è una parola che funziona un po' come la vaselina unge unge le introduzioni che cosa significa significa semplicemente che massacreranno tutto quello che resta dello stato sociale privatizzeranno il più possibile la sanità nonostante quello che abbiamo visto durante l'epidemia le carenze che ci sono i limiti della sanità privata su molti settori privatizzeranno di più privatizzeranno di più l'acqua nonostante che siano stati fatti dei referendum che chiedevano che l'acqua restasse pubblica continueremo a mandare armi anche giusto? ma non è la proprietà ma è la distribuzione cosa me ne frega io non voglio che qualcuno ci faccia degli utili sull'acqua perché laddove c'è il privato non va a curare le perdite come è successo in Francia che l'hanno visto in Francia dove hanno rinazionalizzato in molti casi la gestione delle reti idriche perché i privati non hanno interesse a fare la manutenzione ma hanno interesse a scaricare i costi di queste perdite sui clienti sugli utenti e basta semplicemente quindi è il pubblico che semmai va a fare la manutenzione perché dice è in prospettiva io ne subirei un danno politico anche se si viene a mancare l'acqua quindi su una base di un principio che non è economico non è di guadagno vado a fare la manutenzione sulle linee il privato non lo fa ma come l'autostrada io semplicemente esatto esattamente come con le autostrade io non devo fare la manutenzione io devo fare gli utili quindi io ho tot perdita questi qui corrispondono a tot decine di migliaia di metri cubi il costo di queste decine di migliaia di metri cubi viene distribuito sugli altri utenti che consumano e bel è finito il discorso e questo faranno e questo faranno in questo inverno ci massacreranno e ci diranno che lo fanno per il nostro bene e poi daranno la colpa a Putin chiaramente giustamente è un po' anche a noi Stefano perché non è che possiamo scamparci ha i Putin e gli amici di Putin certo certamente i Putin e i bracci destri quei 40 bracci destri che ha Putin noi siamo uno di quelli siccome noi diciamo le cose come stanno e diciamo pan al pane il vino al vino diventiamo putiniani nella narrativa dei servi dei servi incapaci e sì che poi non si può sentire Putiniano o altro non ha un senso nel mio caso sarà anche vero non è che me ne faccio una colpa o una vergogna rispetto molto di più noi simpatizziamo per la Russia nel senso che in questi anni abbiamo visto che aveva una posizione più corretta sul piano di vista del diritto internazionale rispetto a quello che erano gli Stati Uniti assolutamente sì gli Stati Uniti abbiamo detto prima si trovano in Siria stanno occupando la Siria e quale paese europeo ha messo delle sanzioni contro gli Stati Uniti perché sta occupando un paese sovrano anzi però tutti i giorni ce la menano con la storia dell'Ucraina quindi voglio dire siamo giunti a un'ora e mezza Stefano hai qualche altro argomento nel cassetto? guarda sulla storia del grano oggi partono dovrebbero partire i primi convogli la prima nave del grano che parte verso qualche destinazione magari viene in Europa perché con che cosa torna? perché magari viene in Europa a caricare le armi no no ma se anche torna negli accordi che hanno sottoscritto è previsto che turchi e russi facciano i controlli sulle navi che vanno a caricare quindi che non facciano i furbi l'unica cosa che puoi portare che conviene portare via nave sono dei sistemi pesanti quindi non li nascondi quelli gli altri li porti tutti tramite ferrovia strada in questi mesi non mi sembra che siano mancati i modi di portare le armi il petrolio ad esempio gli arriva via ferrovia dalla Romania abbiamo visto la Moldavia le navi passano attraverso il Danubio e poi vanno nel porto di Galati in Romania da cui vengono poi trasferiti gli idrocarburi via ferrovia con scartamento sovietico attraverso la Moldavia fino in Ucraina e se appunto quelle navi però non ritornassero a Odessa e andassero nei porti rumeni con il materiale che stavano beh ma quello lo fanno già quello lo fanno già quindi non è un problema l'Egitto ha disdetto un contratto di non so quante migliaia di tonnellate o milioni di tonnellate di grano dall'Ucraina perché era in ritardo quindi sembra che lo fornisca la Russia a loro in sostituzione poi c'è stato un fantastico viaggio di Lavrov in tutta Africa è stato in Uganda in Etiopia in Congo accolto come un eroe un po' da per tutti ma è stato incredibile accolto benissimo dappertutto tutti lo aspettavano a braccia aperte hai visto anche in Egitto che accoglienza ha avuto corridoi pieni di gente che voleva stringergli le mani tutti i ossequiosi guarda è impressionante il fascino che esercita la Russia in tutto il mondo e quanto poco ne eserciti da noi sarà mica a causa del fatto che negli altri paesi hanno un'informazione più libera e da noi invece è tutta servita agli interessi delle veline della Nato sembrerebbe altra cosa divertente Stefano che ho sentito che gli Stati Uniti con Blinken stanno tentando da una settimana di avere un incontro con Lavrov di organizzarlo ma dalla segreteria gli viene detto che Lavrov è molto impegnato sì perché adesso è tornato tra l'altro poi ha incontrato il ministro degli esteri cinese subito appena rientrato vanno avanti con gli incontri era stato prima della tornata tra l'altro quello che è importante è notare come è stato accolto ad esempio Biden in questi paesi di fatto non ha ottenuto nulla mentre invece hanno accolto veramente calorosamente Lavrov ecco Lavrov era stato anche in Algeria tra l'altro dove tra l'altro l'Algeria in Algeria la Russia ha fortissimi interessi nel mondo degli idrocarburi noi compreremo più gas dall'Algeria e di fatto arricchiremo di nuovo la Russia perché gas possiede il 40% dell'industria petrolifera algerina quindi vuol dire l'Algeria investirà questi nuovi soldi tra l'altro in armamenti probabilmente russi perché è il miglior cliente africano dell'industria bellica russa insomma noi ci stiamo scavando la fossa con questo intestardirci nell'essere così servili poi tralascio per pietà umana le giravolte di di Giorgia Meloni che se uno ascoltasse i suoi discorsi di pochi mesi fa e quelli che fa adesso dici ma è la stessa persona una botta in testa un colpo di calore qualche cosa perché sta dicendo di tutto di tutto il peggio che si può immaginare cioè aumentare ancora la dipendenza dell'Italia dall'atlantismo quindi ridurre nuovamente la sovranità del nostro paese parla apertamente di piena identificazione nell'Unione Europea quindi assolutamente zero totale la nostra capacità di smarcarci proseguire nell'agenda Draghi il discorso è non si rendono non si rendono conto che penalizzando noi comunque sia avvantaggiando gli altri anche loro si ritroveranno nella stessa nostra situazione oppure loro hanno già una soluzione pronta una via d'uscita e ci rivediamo tutti negli Stati Uniti grazie a rivederci non lo so perché a un certo punto a noi ci lasceranno come noi lo sappiamo è un disastro che sta venendo a crearsi sì un disastro totale e quest'inverno avremo un modo purtroppo di sperimentarlo sulla nostra pelle purtroppo sì purtroppo sì non oso immaginare fino a che punto arriveranno nello spellarci però temo cose molto pesanti e costi elevatissimi della vita noi continuiamo a dire indicazioni di voto fondamentalmente chiunque non sia del sistema chiunque non sia attualmente come gruppo parlamentare nel Parlamento attuale perché da una parte all'altra i gruppi a parte qualche caso presente nel gruppo misto ecco che hanno mantenuto una buona posizione politica coerente tra l'altro con il mandato elettorale ricevuto gli altri assolutamente no assolutamente no nessuno nessuno mi sentirei quasi di sostenere un Marco Rizzo o chi con lui sta combattendo queste nuove battaglie è un gruppo interessante bisogna vedere bene e capire bene la loro proposta poi anche perché c'è anche da dire una cosa non basta mettersi assieme e avere degli argomenti ci vuole anche poi una proposta ecco perché vai a sostenere qualche cosa unito per motivi elettorali o unito su un progetto chiaro ecco questo va approfondito seguiremo la vicenda da qui al voto per per vedere per farci un'idea anche noi devono anche raccogliere 40.000 firme tra qui a Ferragosto e non è facile anche trovare solo i professionisti che vengano a certificarti la firma valida ecco non è semplice l'hanno pensata bene l'hanno pensata apposta per limitare le eventuali alternative ai partiti mainstream l'hanno pensata bene per evitare la coscienza piena dei cittadini di andare al voto in questa situazione in questa fase storica che va compresa va esaminata va studiata per dare un seguito e una una scelta consapevole al nostro voto ecco in bocca al lupo a tutti e via io sarò ai seggi come al solito benissimo col mio solito segretario e spero qualche uno del team scorso perché si sono comportati tutti benissimo anzi li saluto sono iscritti al canale perché li ho obbligati bravo Stefano Sascha un saluto un abbraccio a tutti grazie per averci seguito e alla prossima alla prossima arrivederci Stefano